Tommaso, questa è una di quelle vittorie che tutti i presidenti a un certo punto sognano contro la grande squadra all'ultimo secondo. È la partita perfetta, è il sogno di tutti, vincere all'ultimo minuto, comunque giocando bene, comunque con la paura di perdere perché bisogna essere realisti, una grande soddisfazione, sono molto contento. L'arrivo del termine di una settimana è anche difficile, se vogliamo, perché quando una persona cara ti lascia... Beh sì, quello sì, mi ha sempre aiutato, mi ha aiutato anche oggi, sono contento. La squadra ha dedicato un toto da vittorio ovviamente a Sonono. Sì, ma sono molto contento, ripeto, è una persona che ha fatto tanto per noi e sono molto felice. Però, ripeto, oggi bravi ragazzi, una grande prestazione, molto bravi. Ci hanno creduto fino alla fine, siamo riusciti a fare tre punti meritati, abbiamo una bella classifica e ci dà serenità anche per le prossime gare. Ecco, oggi c'è stato quel parma che forse tu hai sempre, tra virgolette, sognato, che gioca bene ma che ci mette anche tanta grinta, cioè che unisce, fa questo cocktail. Sì, sì, ma è così, è chiaro. Io ho visto oggi correre e picchiare, quello che ho detto sette anni fa. È chiaro che parlo di un picchiare agonistico perché non è che auspico la violenza, però qualità mixata con determinazione e con tanta voglia di vincere, senza dimenticare che sia di fronte comunque il Milan che è una squadra forte, cacà, ha fatto due giocate volte splendide e Mirante ha fatto il cacà della porta, perciò complimenti a Antonio che ha salvato il risultato e poi complimenti all'altro Antonio per un grande gol e a Parolo che ha fatto la doppietta, ma ripeto, i complimenti vanno a tutta la squadra. Sono molto felice anche per il mister e anche per Pietro perché sono momenti duri, difficili, si sta lavorando molto, si sta cercando di costruire qualcosa di importante e la vittoria ti dà una grande serenità. Purtroppo c'è sempre il fatto che quando si fanno queste grandi vittorie ci sono solo due giorni per godersela perché poi c'è un'altra partita subito alle porte, però ben vengono queste soddisfazioni. Primo tempo un Parma che ha giocato in maniera sorniona, ha fatto due gol quasi di rimesse in conto via, poi probabilmente il periodo migliore del Parma è stato il primo quarto d'ora del secondo tempo dove ha annichilito veramente il Milan, dopo quell'1-2 terrificante dei rossonei, ha avuto un po' paura che fosse l'ennesima partita sfortunata, l'ennesima partita in cui gli episodi giravano male, non è arrivato nemmeno un rosso per un giocatore del Milan, per De Jong e poi nel finale? Quando ho visto la traversa di Gargano mi sono spaventato, avevo detto, caspita qui abbiamo sbagliato il 3-0 e magari pigliamo il gol, è stata così perché in tre minuti abbiamo preso due gol e ho avuto paura, sì sono sincero, ho avuto paura perché il calcio è questo, però la squadra è entrata in campo da grande squadra perché su 2-0 col Milan, entrare e metterli in Milan ci vuole molta determinazione, dobbiamo adesso imparare a gestire un po' meglio i risultati, io penso che ci manca un po' la maturità di gestire i risultati quando si è in vantaggio. In una classifica ipotetica delle vittorie più belle come Presidente del Parma, questa va almeno sul podio nelle prime tre ipotizzate? Sì, sì, assolutamente, ricordo questa, quella sempre col Milan di Bojinov e poi quella sono da Juve col gol di Giovinco, sono credo le tre partite più belle che ricordo. Vedete, mi viene da dire una cosa, peccato che Lucarelli abbia 35-36 anni. Lucarelli è pazzesco, oggi usciva in palleggio, dribbling, tunnel, bisogna riportarlo sulla terra perché se no prima o poi fa un disastro, perciò adesso bisogna tenerlo calmo perché ecco, così riposa perché mi spiace ma almeno riposa perché io Ale lo conosco, adesso è stratosferico perciò bisogna farlo un attimo riposare secondo me. E questo dice che l'età effettivamente non conta, perché magari all'inizio di stagione quando si guardava la rosa si diceva ma il Parma come non mai ha preso i giocatori di una certa età? Nel calcio c'è troppa gente che chiacchiera e che non capisce niente di calcio, se noi facciamo delle scelte le facciamo perché vediamo lavorare le persone tutti i giorni e conosciamo i valori che hanno al loro interno perché un costo sono le qualità tecniche e fisiche e un conto sono le qualità morali. Alessandro per questa squadra dà anima e corpo e se avesse un centiletro di ossigeno da spendere lo spende per il Parma, sta facendo delle grandi cose e se lo merita e perciò si capisce perché gioca titolare in Serie A a 36 anni. Si parla molto di Cassano in Nazionale giustamente, però questo Parolo, insomma Parolo aveva detto se faccio 5 o 6 gol entro gennaio magari convinco Prandelli, è a 5, quindi c'è già arrivato, una parolina magari col CT la spende l'epoca. Parolo quando l'abbiamo preso era uno dei giocatori più forti d'Italia, hanno l'anno scorso ha fatto un campionato un po' in sordina ma sebbene noi non siamo il Milan, la Juve o l'Inter comunque passare da Cesena al Parma un po' di differenza c'è, giocare con certi giocatori con cui non era abituato credo che anche per lui sia servita l'esperienza, sia servita la maturità, l'ambientamento. Adesso è tornato giocatore di due anni fa, giocatore che volevano tutte le big e che giocava in Nazionale, perciò io non ho bisogno di dire nulla a Cesare perché so che i giocatori buoni li prende perché lui vuole andare a vincere il Mondiale, non vuole andare a fare una passeggiata, perciò quelli buoni li porta tranquilli. Grazie. Grazie a te.